Ok, con me! ...organizzata dal Consiglio studentesco che ha radunato in Piazzale Europa non meno di 2.000 persone. Dalle 18 alle 22 circa i ragazzi hanno ballato su musica italiana contemporanea, mixata ma anche eseguita da un vocalist dal vivo, che questo è appunto il format di Broccoletti Pop. Che i triestini conoscono anche grazie alla Barcolana. Hanno dato vita infatti al concerto dei Comacose. Ora Broccoletti Pop guarda le piazze della regione e in tal senso il prossimo appuntamento sarà a San Vito al Tagliamento, laddove Anubi, in centro congressi, darà vita agli spettacoli di Natale e Capodanno. E sono sotto la pioggia! ... ... ... ... ... ... ...